Speriamo di cominciare questo nuovo anno, intanto colgo l'occasione di fare gli auguri a tutti i tifosi del Pavia, speriamo di cominciare nel migliore dei modi, non abbiamo terminato l'anno in maniera proprio decorosa e quindi vogliamo riscattarci in questo nuovo anno e scalare posizione in posizione per arrivare il più alto possibile. Secondo te cose mancate in particolare in questo novembre-dicembre che al di là della vittoria di Pordenone è stato un periodo abbastanza sofferto dal punto di vista dei risultati? A volte è difficile dirlo, purtroppo in questo ultimo periodo non riuscivamo a portare in campo quello che ci chiedeva il mister, poi quando non arrivano i risultati un po' di paura, un po' di timore te lo porti anche lì in mezzo, però questa sosta ci ha aiutato magari a capire, a caricare le batterie di nuovo e ad essere pronti per questa nuova partita e domenica ci sarà di nuovo l'ennesima battaglia da portare a casa. Stiamo lavorando tanto in questo periodo, il mister ci chiede tanto impegno e concentrazione e noi lo stiamo mettendo in campo anche perché veniamo da un periodo non felicissimo e quindi soltanto con il lavoro duro possiamo tirarci fuori da questa situazione. il mister ha portato questa nuova idea di gioco, noi stiamo mettendo il massimo impegno per portare in alto il Pavia ed arrivare il più in alto possibile alla fine di questo girone. Come ti trovi qua a Pavia città? Bene, a parte un po' di freddo in più, però bene, anche la mia famiglia si sta trovando benissimo e quindi sono contento della mia scelta sotto tutti i punti di vista. Con chi hai legato maggiormente di questo gruppo del Pavia Calcio? Ce ne sono diversi, ce ne sono diversi che magari usciamo anche, ci vediamo anche al di là del campo come, non so, Mattia Marchi, Andrea Ferretti, ce ne sono diversi, non voglio elencarli magari tutti, però ce ne sono diversi perché credo che sia formato sin dal ritiro un ottimo gruppo. Se non avessi fatto il calciatore, cosa avresti fatto? La domanda da un milione di dollari? Ma iniziando presto con il calcio non mi sono mai posto questo problema, diciamo, e quindi ho visto sempre come obiettivo il calcio. Poi magari un giorno che finirò dovrò pensarsi un attimino e vedere un po' il da farsi.